ciao allora in questo periodo non so cosa sta succedendo nella mia vita ma ci sono alcune persone che culminate sulla via di damasco hanno deciso di chiedermi scusa ovviamente non sono persone almeno al mio parere minimamente pentite per tutto quello che hanno fatto assolutamente sono più che altro persone che vorrebbero tornare per un loro tornaconto personale questo mi è abbastanza chiaro perché secondo me nella vita bisogna distinguere tra pentimento e tornaconto personale un'altra cosa che comunque ci sono secondo me nelle cose troppo pesanti e troppo dure che non si possono perdonare o quantomeno io non posso perdonare detto questo volevo chiedervi cosa ne pensate voi sul sul mentimento e vorrei dire al mio pensiero personale e quando si esagera fare le cose il pentimento diventa una cosa personale in altre parole se mi hai fatto del male e te ne sei pentito sono problemi tuoi può sembrare una presa di posizione molto forte ma ci sono casi in cui veramente io non so come gestirlo in un altro modo quindi fatemi sapere cosa ne pensate arrivederci ciao a tutti un bacio